Ciao a tutti e bentornati. Il mercato azionario è entrato nel vivo della stagione delle trimestrali e alcune aziende hanno già pubblicato gli ultimi dati. Tra le aziende presenti nel mio portafoglio, l'unica ad aver già pubblicato i risultati è stata United Health Group e ne abbiamo parlato proprio durante lo scorso episodio. La prossima settimana sarà la più interessante poiché saranno pubblicati i risultati delle aziende più grandi e famose in assoluto, tra cui Apple e Microsoft. Le azioni del mio portafoglio pubblicheranno i risultati nelle seguenti date. Il 29 ottobre toccherà a Google e MSCI. Il 30 ottobre sarà il turno di Meta e Booking. Il 31 ottobre ci sarà poi Amazon a chiudere la settimana. Saranno quindi tre giorni in cui potrebbe esserci parecchia volatilità per il mio portafoglio, ma fa tutto parte del gioco. Le altre aziende del mio portafoglio invece pubblicheranno i risultati più avanti. Nella prima metà di novembre toccherà a Berkshire Hathaway e T. Rowe Price, mentre nella seconda metà di novembre ci saranno Lowe's e Alibaba. Exor invece fa storia a sé, poiché pubblica i risultati solo due volte all'anno, a maggio e a settembre, quindi l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato circa un mese fa. Affronterò queste settimane in totale serenità, poiché sono sempre molto convinto delle aziende che ho in portafoglio e per il loro futuro a lungo termine. Seguirò quindi le trimestrali con interesse ma senza preoccupazioni se il prezzo delle azioni dovesse calare in seguito a dei risultati al di sotto delle aspettative. Anzi, in tal caso, per alcune di esse sarei molto felice di incrementare la mia posizione. C'è solo un'azienda che probabilmente venderò entro fine anno, ma ve ne parlerò quando sarà il momento. In totale, nel mio portafoglio, in questo momento ci sono 11 azioni, per un totale circa di 35.000 euro investiti sui 160.000 euro complessivi. Significa che il 22% circa del portafoglio è investito in azioni singole. E come sapete, potete seguire l'andamento del mio portafoglio in tempo reale tramite il sito GetKin, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Ma qual è il numero ideale di azioni da possedere nel proprio portafoglio? Proviamo a scoprirlo insieme nell'episodio di oggi. Qui su YouTube mi capita spesso di vedere video in cui vengono analizzati e condivisi i portafogli di altre persone e ho notato che moltissime di queste persone hanno portafogli con addirittura 50 o 100 azioni singole e questo oltre ad avere già diversi ETF. Onestamente non ho mai capito cosa spinge le persone a comprare così tante azioni e così ho voluto cercare di capire quali possano essere i pro e quali i contro, per scoprire quale potrebbe essere l'approccio migliore. Per farlo partiamo da questo grafico. Qui abbiamo nell'asse X il numero di azioni del proprio portafoglio. Nell'asse Y abbiamo invece la deviazione standard, che praticamente indica la volatilità del portafoglio e viene usata per valutare il rischio. Come vediamo dal grafico, con una sola azione in portafoglio abbiamo il rischio più alto. Man mano che aumentiamo il numero di azioni, invece il rischio cala, ma non cala in maniera lineare. Cala molto all'inizio, mentre poi il grafico si appiattisce. Questo accade perché a un certo punto aggiungere ulteriori azioni non riduce più la volatilità in modo significativo. Nel grafico vediamo anche una riga orizzontale, che rappresenta il rischio del mercato azionario, e vediamo molto chiaramente che una volta superate le 20 azioni in portafoglio, il rischio cala pochissimo per ogni azione aggiuntiva. Praticamente il rischio è molto simile tra un portafoglio di 20 azioni e un portafoglio di 100 azioni e entrambi hanno un rischio molto simile a quello del mercato generale. Quindi capiamo subito che per avere una buona diversificazione e avere praticamente lo stesso rischio del mercato sono sufficienti tra le 20 e le 30 azioni. Chiaramente se queste azioni fossero tutte molto simili tra loro, magari della stessa nazione e dello stesso settore, allora questa diversificazione potrebbe non essere reale, poiché spesso i rendimenti delle azioni di uno stesso settore seguono andamenti molto simili tra di loro. Quindi tendenzialmente con 20 o massimo 30 azioni diversificate per settori e magari anche per nazioni, possiamo dire che sia possibile ottenere una riduzione del rischio e della volatilità molto simile a quella del mercato. E un discorso molto simile può essere fatto anche in merito ai rendimenti. Più azioni ci sono nel portafoglio, più i rendimenti medi saranno simili a quelli del mercato. Ma questo vale nel migliore dei casi. E infatti sappiamo quanto sia difficile ottenere rendimenti superiori al mercato e pochissime persone ci riescono. Quindi per me la domanda sorge spontanea. A cosa serve avere in portafoglio 50 o 100 azioni diverse se nel migliore dei casi riuscirei a ottenere gli stessi rendimenti del mercato? Per me non ha nessun senso. Se volessi la massima diversificazione per ridurre al minimo il rischio, allora tanto vale investire direttamente in ETF e prendermi il rendimento del mercato. Tanto comprando 50 o 100 azioni singole non riuscirei mai a ottenere rendimenti migliori. Rischierei solo di lasciare i soldi per strada. Avere così tante azioni in portafoglio ha anche altri svantaggi. Innanzitutto le commissioni di acquisto saranno più alte poiché andranno pagate per ogni singola azione. Quindi più azioni ci sono più commissioni si pagano. A meno che qualcuno non abbia commissioni in percentuale senza alcuna soglia minima o capitali davvero importanti in gioco. Altrimenti queste commissioni possono impattare parecchio in confronto a fare pochi acquisti su un solo ETF o su poche azioni. ETF inoltre che spesso possiamo acquistare senza commissioni. Il secondo problema lo ha evidenziato anche Bill Hackman, uno degli investitori più famosi del mondo. Ecco le sue parole. Penso che molti investitori esagerino con la diversificazione perché sono pigri. Non hanno fatto abbastanza ricerche sulle aziende del loro portafoglio. Se hanno 200 azioni come possono sapere cosa stia succedendo in ognuna di quelle aziende in ogni momento? E parole simili sono state dette anche dal più grande investitore di sempre, Warren Buffett. Se tu sei in grado di analizzare e valutare un'azienda sarebbe folle possedere 50 azioni o 40 azioni o 30 azioni perché non ci sono così tante aziende eccezionali che una singola persona possa realmente comprendere a fondo. Avere alcune aziende eccezionali e poi investire soldi sull'idea numero 30 o 35 della tua lista di idee anziché investire più soldi sulle prime idee, secondo me e Charlie questa è follia. Sappiamo però che sia una pratica molto diffusa se sei interessato a ottenere rendimenti mediocri e dal nostro punto di vista è praticamente una confessione del fatto che tu non sappia davvero comprendere le azioni che hai in portafoglio. Quando le azioni in portafoglio sono più di 20 diventerebbe un lavoro a tempo pieno riuscire a seguire tutte le aziende e aggiornarsi dopo ogni presentazione trimestrale. Molte persone però dicono che certe aziende sono molto solide e non hanno bisogno di essere monitorate, come ad esempio la famosissima Coca-Cola. Questo è vero, molto probabilmente, Coca-Cola esisterà ancora tra 50 anni. Ma non è questo il punto. Il punto è quali rendimenti può generare Coca-Cola in futuro? Può generare rendimenti migliori del mercato? Perché se pensiamo davvero che Coca-Cola possa generare rendimenti migliori del mercato e, per dirlo, abbiamo fatto delle stime e delle valutazioni, allora va benissimo. Se invece compriamo azioni di Coca-Cola solo perché è un'azienda solida e paga dividendi crescenti da 50 anni, ma non facciamo valutazioni più approfondite, il vero rischio è quello di lasciare soldi per strada. E infatti chi ha investito in azioni Coca-Cola negli ultimi 5, 10 o 20 anni ha lasciato molti soldi per strada rispetto ad aver investito in tutto il mercato tramite un banale ETF. E questo esempio può essere fatto con moltissime altre aziende storiche e solide che sono sicuro continueranno ad avere buoni rendimenti e non falliranno per i prossimi 50 anni. Ma se investiamo in azioni singole, perché dovremmo accettare rendimenti più bassi del mercato prendendoci però anche il rischio specifico? Gli investitori più famosi del mondo, che sono riusciti e riescono tuttora a battere il mercato, non hanno 50 o 100 azioni in portafoglio. Hanno spesso portafogli molto concentrati in poche aziende su cui credono fermamente. Warren Buffett, ad esempio, è vero che possiede Coca-Cola, ma l'ha comprata a cavallo tra gli anni 80 e 90, quando ebbe una crescita incredibile. Non l'ha comprata negli ultimi 20 anni. E nel suo portafoglio azionario, le prime 10 azioni occupano addirittura il 90% del totale. Quindi, sebbene ci siano molte più azioni in tutto, sono le prime 10 a determinare i rendimenti. Tutte le altre hanno un peso praticamente irrilevante. Lo stesso Bill Ackman, citato poco fa, ha un portafoglio da 10 miliardi di dollari che è molto concentrato e infatti ci sono solo 8 azioni in tutto. Terry Smith, nel suo fondo di investimento, ha molte azioni, ma anche in questo caso l'80% è concentrato in meno di 15 azioni e le prime due, Microsoft e Meta, occupano oltre il 10% ciascuna. Un altro investitore che seguo con attenzione è Dev Cantesaria, che gestisce il fondo Valley Forge Capital Management. Anche in questo caso ci sono solo 8 azioni in tutto, ma due di queste occupano meno del 2% del portafoglio totale. Quindi abbiamo circa il 97% del portafoglio concentrato in sole 6 azioni. E poi c'è anche Chris Hohn, che gestisce un fondo gigantesco da 40 miliardi di dollari. Tutti investiti in sole 9 aziende, ma una di queste occupa meno del 2%, quindi sono praticamente 40 miliardi in sole 8 aziende. Avere portafogli concentrati, ovviamente, non è qualcosa che possono fare tutti. Serve molto studio e analisi delle aziende e serve lo stomaco, come dice Peter Lynch, per sopportare eventuali crolli senza farsi prendere dal panico. Per quanto mi riguarda, possiamo dire che io ho scelto un approccio ibrido. Ho investito il grosso del mio portafoglio in ETF per prendermi il rendimento del mercato e sto dedicando una fetta del mio portafoglio alle 11 azioni singole di cui abbiamo parlato prima e che, come detto, per ora occupano il 22% circa del totale. Vedo queste 11 azioni come se tutte insieme fossero un mio ETF personalizzato di cui sto monitorando i rendimenti e cercherò di capire se nel giro di qualche anno io sia in grado di ottenere rendimenti migliori del mercato. Ovviamente è quasi impossibile battere il mercato ogni singolo anno. Neanche Warren Buffett ci è mai riuscito, ma sul lungo termine l'unica cosa che conta sarà il rendimento totale, indipendentemente dai rendimenti dei singoli anni. Personalmente, credo che non avrò mai in portafoglio più di 15 azioni singole, perché, per quanto mi piaccia studiarle e analizzarle, non potrei mai farlo se avessi troppe aziende. Sarebbe impossibile per me, come per chiunque non lo faccia di lavoro, restare aggiornato su tantissime aziende e comprendere tutti i vari modelli di business. Di conseguenza, sarebbe impossibile riuscire a fare valutazioni sensate che siano quantomeno verosimili e abbastanza affidabili. E per questo motivo non comprerei mai un'azione singola senza averla analizzata e studiata bene. Quindi sappiamo per certo che avere tanti azioni in portafoglio riduce la probabilità di battere il mercato e anzi, probabilmente, solo nel migliore dei casi riusciremmo a non lasciare soldi per strada. Questo è molto importante. Allo stesso tempo, però, non c'è una riduzione del rischio tangibile rispetto al mercato nel possedere più di 20 o 30 azioni. Certo, se avessimo in portafoglio 50 o 100 azioni e una di queste fallisse, probabilmente non ce ne accorgeremmo neanche. Ma se volessimo avere questo tipo di tranquillità, allora tanto vale investire in ETF, come dicevamo poco fa. Con 50 o 100 azioni non avremmo alcun vantaggio rispetto ad ETF, ma anzi, rischieremmo solo di ottenere rendimenti inferiori, pagare più commissioni e farci venire il mal di testa per monitorare periodicamente tutte o quasi le varie aziende. Non c'è da stupirsi, quindi, se l'investitore medio, che si riempie il portafoglio di azioni a caso, come in tanti video che ho visto qui su YouTube, ottiene rendimenti medi molto bassi in confronto al mercato, lasciando quindi moltissimi soldi per strada. E a tal proposito, io sono anche abbastanza sicuro che questi investitori non abbiano neanche la più pallida idea di quali rendimenti stanno ottenendo con le proprie azioni. Magari vedono che in totale stanno guadagnando qualcosa e sono contenti così, senza però rendersi conto che avrebbero potuto ottenere rendimenti molto maggiori investendo banalmente in qualche ETF. Scegliendo invece fino a un massimo di 20 azioni, in cui siamo profondamente convinti e sulle quali abbiamo fatto abbastanza ricerca e analisi, allora sì che avremmo qualche possibilità di battere il mercato. Chiaramente non sto assolutamente dicendo che tutti dovremmo investire in questo modo, anzi avere portafogli o porzioni di portafoglio come nel mio caso. Più concentrati richiede il giusto approccio mentale e il giusto temperamento, ma questo probabilmente è l'unico modo per provare a ottenere rendimenti migliori, anche se ovviamente non c'è alcuna garanzia di riuscirci. E altrettanto ovviamente nessuno dice che sia facile, né dal punto di vista psicologico, né dal punto di vista delle competenze e dell'impegno necessario. Io sono davvero molto curioso di sapere cosa ne pensate leggendo i vostri commenti qui sotto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente un like ed iscrivervi al canale. Sapete che per me è importantissimo. E per l'ultima volta, prima di salutarvi, vi ricordo che fino alla fine di ottobre è attiva la promozione per iscriversi su Directa, l'intermediario che utilizzo per tutti i miei investimenti. Iscrivendovi su Directa utilizzando il mio codice d'invito avrete 100 euro di bonus commissionale fino a fine anno. Significa che i primi 100 euro di commissioni non li pagherete e saranno gratis fino alla fine dell'anno. Per oggi è davvero tutto. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao! 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 Ciao!